Oggi siamo qui su Rainbow Six Siege come potete ben vedere come potete bene osservare per fare una classificata raga semplicemente con lo scafo raga io ancora mi devo abituare a usare le levette dietro cioè non mi viene proprio non mi è per niente naturale vi giuro sarà difficile ci vorrà tempo per abituarmi vi dico la mia onesta verità intanto vediamo se c'è qualcuno che vuole fare il furbacchione eccolo vedi c'è caveira qua sotto caveira dove sei troia del cazzo vabbè non perdiamo troppo tempo fateci tutti così sono giù o sono qui non ho capito sono giù no però ci stavo interrogando dai porca eva raga resta solo un operatore d'attacco non muore partiamo non male raga malissimo c'è veramente assurdo come siamo partiti cerchiamo di recuperare ora però di fare meno cagate del genere andiamo di chiudere qui ok cerchiamo di giocare l'aggressività che già so dove posso attaccarli c'è qualcuno qua è un amore Ash voleva pushare raga pushami sto cavolo no però non possiamo facciare tutti dai raga che squadra di merda c'ho oh raga cerchiamo di fare il giro di qui qualcuno ti ha scoperto no non ci posso credere sei stato identificato qualcuno è sulle tue tracce sono sulle tue tracce scendo raga qualcuno ti segue ti stanno dando la caccia no hanno messo il cazzo di cosa e non c'è le bombette lo sapevo il nemico sta difendendo il contenitore di bio rischio ok staccante rimasto in vita mannaggia raga mannaggia dove cazzo stava questo eh vabbè se avessi avuto la bombetta forse potevo pensare di fare qualcosa raga così era impossibile ok non sono i media center sono anche loro il ristorante perfetto eh giustamente moriamo subito sicuro c'è cavera che rompe il cazzo contenitore di bio rischio localizzato affanculo cavera quanto l'ho smirata ma ha sbagliato lei e si è fatta sentire di sicuro c'è vigilo qualcuno che ci guarda meglio che droniamo raga cazzo è morto proprio qui dovrei fare andare giù e giù così però vediamo se c'è qualcuno qui dietro c'è nessuno buono il compagno finalmente qualche kill qua possiamo aprire raga devo provarci giustamente tu ci sta danando e la e doc perfetto ok the last one e andiamo così dai raga ci ho messo un po' di tempo rivalità tra sorella e più dieci bellissima quella cazzo ci ho messo un po' di tempo per mi darla stiamo giocando in due 5 kill e 5 kill mamma mia raga che brutta reazione che brutta reattività ma comunque ero già dentro tranquillo che sapevo che stava lì quindi meglio così importante aver portato sto round a casa che da praticamente se no una sconfitta 0-3 5-0-1 gli altri miei compagni stanno giocando a fifa mettiamo un tappetino qui raga poi c'è un tappetino speciale che già se lo deve mettere che di solito raga faccio sempre una kill la faccio praticamente sempre ora ve la faccio vedere raga qua giù dove loro scendono metto la trappola di solito non se ne accorgono mai soprattutto se mettessi un qualcosa sopra però non fa niente lasciamo stare così c'è un'altra trappola raga che posso mettere a qualche parte avrei voluto metterla qui non è entrato qui giusto potrei metterla qui però se ne accorgono se noi non se ne accorgono mai vediamo se c'è ragione vediamo se cadono qui nella trappola la cadina e la trappola guarda quanto è stupido guarda hai visto raga ne potrei mettere due si fanno sempre le kill sempre raga vediamo se dopo qualcuno giustamente si fanno uccidere i compagni sii godo dove ce l'ha questo il drone che mi ha visto c'è quel drone a qualche parte sto infame vediamo se sono lì fuori mettiamo l'angolo così raga oh è qui fuori vedete raga io mi alzo ancora con il con il cerchio non con la levetta come dovrei fare no ibanaci secondo me il cavera l'aveva buttata sotto l'aveva buttata giù che cazzo sto dicendo ragazzi ho concentrato bravo uno alla mia destra e uno qui l'ultimo nemico rimasto oh seriously fai il giro 15 secondi beh se viene qua c'è la trappola raga se ah quale quella lì la grandissima grandissima trappola messa lì mamma mia tatticissima un genere delle trappole raga in questa sessione in questo round porca mamma mia alla grande proprio vendicili così eravamo partiti una cacca una merita merda in questa partita e guardate qui 8-0-1 sto facendo il macello praticamente stiamo giocando io e go e wix il nostro compagno il nostro socio oserei dire ancora giù sono si raga ancora giù speriamo che si dimenticano di fare di barricare come prima i nostri compagni intanto continuano a non giocare cioè siamo due contro cinque e vabbè raga l'importante è vincere speriamo che speriamo che non fanno tutto raga di solito non riescono a fare tutto raga non ci riescono ok riusciamo a fare il buco questo è l'importante ora qui raga dovrei un attimino mettere il drone da qualche parte per guardarmi la zona bravo pure lui a metterlo lì vediamo se rompono il cazzo caveira che l'ultima sarà caveira sicuro ok andiamo qui sopra che sicuramente vediamo se ritroviamo quella troietta di caveira che rompe coglioni se si mette lì del tivo no come fa di solito poi si mette qui sì raga stavolta drone un attimo perché sinceramente non voglio morire però io potrei pure scendere direttamente giù mamma mia perché mamma mia cioè che cazzo di compagni c'ho c'è già morto io non lo so veramente ma io mi devo muovere raga non posso perdere ancora uh cazzo serio raga scendo smettete di difendere la stanza giustamente moriamo no raga è la vabbè non posso giocare sempre da solo cioè ho dovuto fare le corse ora visto che pushamano quasi a caso guarda però potevo ucciderla perché ah no no mi ha preso proprio mi ha sciolto letteralmente e vabbè dirna si è fatta la prima kill probabilmente si fa anche la seconda ma la verità è che siamo morti ce l'ha dietro ce l'ha sul tuo irano quello è il tuo compagno e vabbè easy 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 raga andiamoci a difendere speriamo che questi compagni si svegliano perché non è che sono bolo o skittles o serenity o masi j anzi tutt'altro quindi bravi nessuno che prende jaker ma che bella squadra ragazzi mute ha preso quello mute con 025 e mute va bene guarda questo guarda quanto è ritardato e giustamente la la cosa la botola mica la fanno no no la botola non si fa ragazzi eh la botola mica si fa quando mai porca eva che ritardo mentale raga che compagni stupido ho trovato eh non è che voglio offendere però ce ne se lo meritano qualcuno è push raga io cerco di di guardarmela qua cerco di non fare di fare uuu uuu si sono svegliati ok il braimo e c'è morto non devono fare botola ok qualcuno è sceso qui è sceso qualcuno qui l'ho sentito buono o sta lì o sta sopra o sta dentro mica sta ancora sopra no sta ancora sopra dove giù ah no sta qua giù dai dai che l'ho ucciso io dai basta che esce qua testa qui dai un amore peso 20 volte in testa un amore questo ci fa il clutch vedi ah meno male dai vittoria alla difesa benneggio alla miserica ho provato a usare lo scaffo facendo il drop shot ma non è servito a nulla sto smirato in una maniera veramente bestiale orribile direi no dai ragazzi tachanka no sta scherzando broida no vabbè raga io non ho parole mira tachanka è mediasente mi viene da piangere dio santo mi viene da piangere mamma mia ragazzi mamma mia meglio che mi sto zitto meglio meglio che mi sto zitto veramente se no partono veramente le brutte bestimme partono le brutte bestimme davvero raga raga ne metto una qua così spero che non mi pusciano di là metto questo mettermi l'acqua che da qua guardate lo prendono subito che intelligentone eh super intelligente mi hanno detto uh allora c'è qualcuno lì madonna quanto lo lo scoperei dach no lo stavo prendendo porca raga si è bagato si è bagato raga si è bagato non c'ho più l'arma no raga che cos'è no raga che bug mamma mia mamma mia ragazzi che schifo no raga che bug mamma mia che schifo che schifo sto gioco vediamo se qualcuno mi guarda qua raga rischio vediamo se mi guarda qua se arriva qualcuno mi dici dai vieni 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 qua vieni qua vieni qua buono raga vediamo se sta qui no bravo bravo Giulio bravo 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 grande grande guix poi l'ho chiamato Giulio vediamo un po' non è che stava dormendo quello eh guix 11 kill io 10 kill raga non so che cavolo è successo un bug assurdo di veramente di quella che ti fanno incazzare praticamente stavo prendendo la batteria mentre il toucher me l'ha rotta si è bagato così il giocatore senza armi senza niente boh veramente non lo so con Zofia stavamo facendo bene però non so se conviene ancora prenderla o meno io direi che possiamo prendere anche termite questa volta ragazzi rischiamo un po' termite di solito con termite ma penso un po' tutti non faccio tante kill anzi 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 non faccio per niente tante kill ragazzi vediamo di chiuderla qua così ci salutiamo ok la va a fare botola quindi dovrebbe essere in ristorante o solo no questo è il ristorante vediamo un po' se è così o forse d'altra parte quindi sala da te interessante drone qui drone qui senza che me lo vedo oh perfetto dovremmo riuscire ad aprire lì non so se è l'ultimo bandit però di solito è sempre cavera che non si fa guardare non si fa vedere ma vediamo se c'è qualcuno qui che di solito prima ha ucciso quello ora vediamo non vedo nulla tutti i compagni all'altra parte andiamo pure andiamo di là Jackal è già giù andiamo a dare una mano buono raga non muore no raga la sensibilità del cazzo guarda quanto c'è di vita la sensibilità del cazzo non girava in velocità giusto no raga che mi sono mangiato no raga che mamma che fail assurdo quasi non ve lo metterei guardate l'ha ucciso col twitch raga vi giuro su dio che palle raga uno contro tre di master Rahul che ha fatto una kill fino adesso in sette round guardate come esce questo ragazzi mai dovete farlo mai uscire da guardate che clamor inutile mai dovete uscire da un angolo senza mirare mai è proprio la base questa guardate che fa madonna mia ragazzi dio santo quanto può essere scarso uno del genere guardate doveva mirare dall'altra parte non mira però sa che ci stanno i kapkan no l'ha vista credo vabbè troppo scarso raga vediamo che il livello è 80 infatti non so come faccia sarà il platino 3 però è così sapevo raga sapevo che andava a finire così 4 a 4 di merda e sarà molto dura qui sarà veramente veramente molto dura in sala da te mamma guarda guarda come lag guarda guarda che spiega a tutti ma vabbè già non ci siamo one tappo qua 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 raga qua dio santo dio santo dio santo mamma mia raga vabbè non facciamo botola perfetto che non posso andarci ora guardate come spiegano i colpi per per uccidere per scassare dei droni per distruggire dei droni cioè veramente ci vogliono l'ignoranza proprio ci vuole questo qua la metto qua andiamo così raga io vedo un po' quanta gente resta dentro ce ne sono due molto probabile che arrivano lì raga molto molto probabile raga potrei aspettarli qui oh interesting ricarico l'arma c'è uno qua raga porco zio porco no raga dai l'avevo uscito questo è uscito è uscito ma lì se era facile è una kill facile è una kill facile dai mamma mia quanto sono stato scarso siamo nelle loro mani ragazzi siamo nelle loro mani questo non è proprio un bene dai guix ho fatto una buona partita per carità due dieci due cinque a farle sempre così ok broida ne vengono da te vengono da te hanno aperto guix sta all'altra parte proprio ok sono già dentro sono già molto vicino bravo no stavo vicino bravo vabbè abbiamo perso guarda broida guarda broida con la pistola ma va a fangulo broida va a fangulo veramente spero che questo video vi sia piaciuto sinceramente basta c'è arrivato a un livello del genere già mi ricordo quando giocavo ro1 e ro2 era cioè non si poteva giocare così ma non è possibile veramente non è possibile che appare gente del genere non so perché come me le mette con me cioè 149 rendete conto 149 vabbè un bacione raga dal vostro zio Alphix ci vediamo alla prossima